La quinta sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, con un'ordinanza depositata nella mattinata di ieri, ha reso nota la propria decisione in merito al ricorso presentato dall'amministrazione comunale contro la sentenza del Tar riguardo gli appalti relativa all'ecomostro di Sassano. I giudici hanno sospeso gli effetti della sentenza che sosteneva le ragioni dell'azienda che, avendo ottenuto per prima l'appalto, è stata poi sostituita dal Comune con una nuova ditta. Ora l'azienda nuova TechSRL potrà proseguire i lavori. In pratica i giudici di Palazzo Spada hanno escluso che da parte dell'amministrazione comunale di Sassano siano stati commessi atti illegittimi nella vicenda legata alla gara di appalto. La prima società infatti, secondo quanto affermato dal sindaco Tommaso Pellegrino e alla base della motivazione che ha portato alla revoca dell'incarico, non ha adempiuto agli impegni presi e per tale motivo è stata rimpiazzata con un'altra. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, si legge nell'ordinanza, accoglie l'istanza cautelare presentata con il ricorso 18 del 2015, limitatamente all'aggiudicazione dei lavori alla nuova TechSystemi e per l'effetto sospende l'esecutività della sentenza impugnata nei limiti di cui ora è indicati. Questo risultato ha dichiarato Pellegrino da conferma del buon operato dell'amministrazione e dei tecnici tutti ed è certamente un primo ed importante successo per il Comune di Sassano anche dal punto di vista prettamente giuridico-amministrativo. La notizia è stata accolta con enorme soddisfazione da tutta l'amministrazione che ho l'onore di guidare per l'ottimo lavoro di squadra svolto e l'importante obiettivo raggiunto.